Un protocollo d'intesa siglato tra il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Reparto Biodiversità, il Gruppo Tutela del Lavoro dei Carabinieri di Roma e l'ESCPT, l'ente Scuola Edile dell'Aquila per la sicurezza sul lavoro. I Carabinieri dell'Arma verranno formati nella Scuola Aquilana e formeranno a loro volta gli iscritti all'ente anche nell'ottica di un'analisi dei fattori di criticità e della prevenzione, ma in un reciproco scambio di informazione. Nella regione Abruzzo, in provincia dell'Aquila e all'Aquila città in particolare, i dati sugli incidenti non sono particolarmente allarmanti, non c'è un trend in crescita stando ai dati, ma la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro rimane un obiettivo da perseguire perché si vuole arrivare ad azzerare il fenomeno. Controllo e formazione saranno le parole chiave del protocollo, i dati relativi agli incidenti sono confortanti, ma tenere alta la guardia è una prerogativa degli enti. Io credo che la sicurezza sul lavoro sia anche un po' la misura di quella che è la civiltà di una comunità, quindi possiamo dire che qui all'Aquila avere un livello alto di sicurezza vuol dire anche un livello alto di civiltà perché una società industrializzata come la nostra non può permettersi un numero ancora di piangere persone perché morte o quantomeno anche mutilate o rimaste invalidi in quello che è il loro diritto al lavoro. Non dimentichiamo che la nostra Costituzione all'articolo 1 mette proprio che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi è dovere di tutti partecipare e elevare al massimo quello che è un momento di formazione, prevenzione e di controllo sulla sicurezza del lavoro. Ultimamente abbiamo ridotto notevolmente quelle che sono gli infortuni sui cantieri, lo vediamo, nella ricostruzione del cantiere più grande d'Europa, nella ricostruzione dell'Ecris ci sono stati tanti incidenti. Certo, è difficile azzerarli completamente perché è impossibile, io dico impossibile azzerarli, però il nostro intento è quello proprio di cercare di limitare al massimo gli infortuni sui cantieri. Già dal 2009 le associazioni, i sindacati, le forze dell'ordine e tutti gli altri attori di riferimento sono riusciti a mantenere alta l'asticella, ma occorre una seconda fase, hanno detto i presenti. La ricostruzione non è terminata, soprattutto nelle frazioni, per cui la prevenzione e l'assistenza alle imprese devono essere un punto fermo. Dai rapporti della Cassedile sono state assistite circa 12.000 imprese da tutta Italia, i lavoratori iscritti sono circa 7.000, vengono fatte inoltre 4.000 ore ogni anno di formazione con mille visite l'anno nei cantieri da parte dei tecnici. Grazie a tutti.